La ripartenza del calcio non mi sembra un tema così urgente. Nella Lega Pro che vive di scatti in avanti e brusche frenate, il presidente Francesco Ghirelli rincara la dose. Lo fa all'interno di una lettera inviata al patron del Monza, Silvio Berlusconi, ma con un concetto valido per tutti i 60 club che prendono parte alla terza serie. Dopo l'aggiornamento del comitato tecnico-scientifico della FIGC, il reo, secondo il presidente della commissione antidoping della Federcalcio, Giuseppe Capo, intervistato da Sport Mediaset, di aver messo i bastoni tra le ruote al calcio, il numero uno della Lega Pro ribadisce un concetto in linea con le 52 votazioni su 59. La Juventus Under-23 non ha diritto al voto, essendo una seconda squadra, a favore dello stop definitivo del torneo espresse in assemblea. Il messaggio sembra però più che altro rivolto al fronte compatto, stando a sentire Ghirelli, che si è invece frammentato sulla votazione dei criteri da adottare per la quarta promozione, a fronte di 23 società favorevoli al criterio del passaggio alla Serie B per meriti sportivi. La media punti ponderata, che spedirebbe in Serie B il Carpi, nonostante il terzo posto nel girone B, 16 sono invece quelle che hanno espresso la volontà di disputare i play-off, potendo anche affrontare i costi necessari per il rispetto dei protocolli imposti da Federazione e Comitato Tecnico Scientifico. Proprio a partire da questo dato, non secondario, la FIGC starebbe allora iniziando a coltivare la possibilità di definire sul campo i verdetti, giocando gli spareggi in estate inoltrata. La valutazione è in corso anche sulla base della posizione di alcuni presidenti, come il numero 1 della Ternana Bandecchi e quello del Sud-Tirol Baumgartner. Se gioca la A, possiamo pensare di farlo anche noi. È la corrente di pensiero di chi vuole coesistere con l'assenza del rischio contagio zero. Il passo successivo sarebbe quello di studiare una formula invece che possa limitare al minimo possibile i contenziosi legali.